I carabinieri di Sant'Agata Militello hanno arrestato in flagranza di reato un 35enne responsabile del maltrattamento contro familiari e conviventi. Nella notte di martedì scorso la figlia minore di una 37enne ed alcuni vicini hanno chiesto aiuto ai carabinieri poiché la donna era stata aggredita dal convivente. L'intervento dei militari ha consentito di bloccare l'uomo che in evidente stato di alterazione psicofisica a causa di controversie e di natura familiare aveva aggredito con calci e pugni la donna, che poi è stata trasportata e visitata presso il pronto soccorso dell'ospedale di Sant'Agata Militello. L'aggressore è stato bloccato e condotto in caserma dai carabinieri e adesso si trova rinchiuso presso la casa circondariale di Barcellona, Pozzo di Gotto. Dopo dieci anni di attese e di rinvii si sblocca l'iter per l'intervento di messa in sicurezza del centro storico di Rometta. La struttura contro il dissesto idrogeologico guidata dal presidente della regione siciliana Nello Musumece e diretta da Maurizio Croce ha finanziato la progettazione esecutiva per un importo di gara di 62 mila euro. L'area interessata è quella sulla parte orientale con una classificazione R4, ossia ad elevato rischio, che presenta evidenti segnali di dissesto sia su Via Ardizione con avvallamenti del piano stradale, sia sui muretti che delimitano la carreggiata, ma anche sulle strutture presenti tra cui una torre dell'Enel che oggi risulta inclinata. Il progetto prevede la stabilizzazione del versante per una lunghezza di circa 200 metri lineari mediante la realizzazione di una cortina di pali che assolverà anche la funzione di fondazione indiretta dei muri in cemento armato necessari al ripistino delle opere di sostegno della sede stradale. Dovranno essere presentate entro il 10 settembre le domande per gli stand espositivi di Ottobrando, l'evento ormai tradizionale ospitato dal comune di Floresta. L'assessore Calabrese ricorda che le domande presentate verranno valutate da un'apposita commissione ed accolte nei limiti delle disponibilità degli spazi espositivi. Saranno quattro weekend dedicati ad Ottobrando 2019 a cui parteciperanno anche i presidi Slow Food di Sicilia. Nel fine settimana del 5 e 6 ottobre fagiolo a cruchitto, oliva minuta. Il 12 e il 13 ottobre su ino nero dei nebro di salumi e carne. Il 19 e 20 ottobre funghi, frutti e grani antichi. Il 26 e 27 ottobre provola e miele. Durante la manifestazione saranno coinvolti gli istituti alberghieri del territorio, Randazzo, Brolo, Sant'Agata, Militello, Santo Stefano di Camastra, oltre a realtà di alta formazione anche di fuori regione. Siamo alle previsioni del tempo per domani venerdì 6 settembre. Si attenua l'instabilità sulla nostra isola anche se il tempo seguiterà a rimanere variabile, specie nelle ore pomeridiane dove si rinnoveranno le condizioni per nuovi rovesci e possibili temporali. Avremo condizioni di tempo variabili al mattino, specie sul settore tirrenico dove non sono esclusi locali temporali marittimi, schierite altrove durante il pomeriggio nubi in aumento, specie sulle aree interne con rovesci sparsi e qualche temporale sul settore centro-orientale. Possibili sconfinamenti lungo la costa ionica e tirrenica migliora in serata con residui fenomeni su Messinese e nord del Catanese. Le temperature saranno stazionarie e di poco inferiori alle medie stagionali, mentre per quanto riguarda i venti avremo un moderato ponente sul basso tirreno, mentre sul canale di Sicilia insisterà un maestrale sostenuto o a tratti forte. Infine i mari, molto mosso il canale di Sicilia, mossi o poco mossi i restanti bacini. È tutto, grazie per averci seguito. Appuntamento alle prossime edizioni. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS